Presentata al Maxi di Roma, l'edizione numero 61 del Festival dei Due Mondi che si svolgerà a Spoleto dal 29 giugno al 15 di luglio. Erika Baglivo. Non il classico concerto in Piazza del Duomo, ma un oratorio, Giovanna d'Arco a Rogo di Arturo Neger. Rompe così la tradizione il Festival dei Due Mondi di Spoleto previsto dal 29 giugno al 15 luglio. Tante le novità annunciate dal direttore artistico Giorgio Ferrara che fanno intuire la volontà di un cambio di passo per un festival che dopo anni di affanno è tornato ad essere un evento di primordine. Una realtà globale, come ha detto lo stesso Ferrara, che tende ad includere e mai ad escludere, riferendosi sia ai molti paesi accolti, sia al pubblico, sia agli artisti. Ecco allora che a chiudere ci sarà la voce recitante dell'attrice Oscar Marion Cotillard, inedita all'opera di apertura Il Minotauro con musica di Silvia Colasanti. Il Festival si apre al pop di qualità con il concerto previsto il 7 luglio di Francesco De Gregori e sostiene il lirico sperimentale che porterà anche qui lo spettacolo Cenerentola insieme. Teatro, Danza, Opere e Musica, l'edizione 2018 sarà quella, detto Ferrara, del ricambio generazionale, un'officina creativa di creazioni originali. Inizia oggi a Foligno la seconda edizione del Festival Altramente Cinema, Teatro.